Il festival è molto interessante, gli argomenti che trattano i cortometraggi fanno capire che c'è una scelta accurata per cui è uno sguardo importante nei confronti del sociale, dell'ambiente, ma anche con il cinema sperimentale e quindi con messaggi molto particolari e quello che sarà il cinema del futuro, poi si vede attraverso questo festival. Bellissima città, per me è una scoperta, sapevo che è stata dichiarata patrimonio mondiale, ma è veramente fantastica. Bellissima scoperta e bellissima gente, complimenti! Bellissima 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 Bellissima